Ragazzoli volevo solo farvi vedere alcuni dei cappuccini che ho realizzato stamattina, guardate venite con me Herschel Leighton, eccolo qua, vai Grazie mille Cappuccino davvero gentiluomo Ecco fatto, vai Flavio L'uomo di Batman, ti piace? Sì, è bellissimo, grazie Ragazzoli, qui abbiamo, come ti chiami tu? Valerio Valerio, che cosa mi hai chiesto Valè? Il leone delle caratteristiche di Mario Che è, che ho fatto, ti piace? E il cappuccino dove è? Lo sei bevuto? L'ho bevuto L'hai bevuto, mannaggia E tu invece, ah tu lo stai bevendo piano piano senza rovinarlo Vabbè il lupetto, vabbè il lupetto è diventato tipo, che ne so, un puccino Sì, però va bene Vai Nicola Grazie Pallone da rugby, ti piace? Sì Oh non è che lo lanci, questo lo devi bere Oh, ma è spettacolare, questo è il mio logo Tony Berry, il barista di... Ma l'hai fatto tu? Eh, dice chi? Freddy Freddy, ti piace? È bello Nooo Con lo stemma dell'Inter, ma sei bravissima, ma l'hai fatto tu? Brava Da Maya Per il barista di Tiktok Bellissimo Dal barista di? Tiktok Dal barista di? Tiktok Dal barista di Tiktok Bellissimo Come dico sempre io? Dal barista di Tiktok E queste erano solo una piccola parte Volevo ringraziare tutti voi che mi supportate Vi mando un saluto e un abbraccio Dal barista di Tiktok Dal barista di Tiktok